Il successo in Europa con il trofeo è importante per ogni manager. Non è semplice, non è facile, perché per il trofeo in Europa, specialmente nella Liga Champions, è importante essere il coach, il manager. Non è più probabilmente il trofeo, se sei il coach in una squadra che è usato per vincere. È normale. Due anni fa, con Inter Milano, abbiamo vissuto la finale in l'Europa Liga, con la Sviglia. Ma per sicuramente, nella mia mente, nella mia ambizione, c'è il wille, il wille di avere successo in Europa. Siamo molto bene che è difficile, ma al stesso tempo ho questa ambizione.